Più importanti del Genoa, più importanti del Malaga. I 90 minuti contro il Chievo-Verona di mister Corini possono valere la svolta. Alla vigilia Massimiliano Allegri tiene alta la guardia. Una partita che ci permetterebbe, vincendola, di fare un bel settino in classifica e di non allontanarsi dal quarto posto. Non sarà facile però. Di fronte, Ambrosini e compagni si ritroveranno una formazione ordinata, rapida, decisa a fare il risultato. Sarà un Chievo davvero pronto a tutto. Hanno fatto una grande partita a Napoli, corrono molto, hanno un ottimo spirito di squadra, sono ben organizzati, lavorano molto e sono molto abili nella fase di riconquisto e nella fase di contropiedi. Quindi sarà una partita molto, molto, molto difficile domani. Rossoneri in campo con il 4-2-3-1. Passo indietro dunque. Una settimana fa andremo avanti con tre difensori. Domani, il ritorno a quattro. Questo è vero. È anche vero che dei difensori che ho a disposizione, Buonera è l'unico che può giocare il regista difensivo. Costant e Abate saranno i terzini da valutare la coppia di centrali. Sulla mediana, Montolivo sarà affiancato da uno tra Ambrosini e De Jong. Oltre al monto, in crescita nelle ultime partite, confermata la presenza di Bojan Kyrkic alle spalle di Pato o Pazzini, il catalano a Palermo è stato il vero uomo in più dei rossoneri. Quando ha giocato da punta centrale come in Russia e come nel derby a Parma, Bojan ha sempre giocato bene perché è un giocatore che sa giocare a calcio. E che giochi da punta centrale o sotto la punta li cambia poco. Credo, per come giochiamo noi o magari sull'esterno, fa molta più fatica perché credo che non abbia una buona gamba per fare l'esterno. Magari a Barcellona, quando era a Barcellona lo facevamo, ma l'esterno del Barcellona sono più punte perché il Barcellona gioca nell'area avversaria, quindi non c'è molto campo da coprire. Emanuelsson e Del Sharawi, gli esterni in attacco. Il faraone oggi si è concesso all'abbraccio di una trentina di tifosi. Lui non si tocca, martedì torna alla Champions ma niente turnover. Stefan Segna continua a farlo, quindi gioca. Non credevo che un ragazzo di vent'anni avesse questa continuità, però ha dato la sua delle qualità, oltre tecniche, in fase realizzativa ma soprattutto fisiche. È un giocatore che ha grande resistenza, grande velocità, diciamo tra virgolette è una punta esterna un po' atipica perché ha bisogno di spazio e quindi su quello lui deve migliorare.